Ciao a tutti ragazzi, io sono Streeting e oggi non faremo niente perché a me mi hanno riempito di compiti Porca pottano, li stanno ancora a fa' E non è sì, scusate eh Restate là eh Ah, ecco meglio, mi ha dieci mila volte Allora, un amico mio mi aveva proposto di fare degli horror sul canale Certamente ho detto sì, perché io i capelli coprono il vuoto che ho in testa perché non ho il cervello Ehm, perciò vorrei fare degli horror E cominceremo con Penumbra Poi forse faremo Outlast e Alien Isolation Li cominceremo a, non lo so quando, forse da domani addirittura Però io oggi non lascio video, ne ho fatto uno soltanto che Siccome io registro bene insieme al cameraman E stavamo registrando la parte dove non abbiamo fatto un cazzo Dove scherzavamo e quando abbiamo fatto il video non abbiamo registrato Comunque Ehm I horror che farò saranno Non dico paurosi, però Sono paurosi Comunque Scusatemi se oggi non farò video Però i Io dico questo I video che non faccio Un giorno O che faccio soltanto queste cose come sto a fa' adesso Le ricovereremo nel fine settimana Ne metterò due Ogni Due al giorno Ne metterò Io farò video tutti i giorni E C'ho piuffato E fiato Perfetto Comunque iscrivetevi Lasciate un mi piace Se vi piacciono gli horror Se no non... Allora Intanto servono 5 mi piace Per fare gli horror Se qualcuno stronza ce ne mette 4 Lo amo Se ce ne mettete 6 vi odio E perciò Iscrivetevi Già l'ho detto Già l'ho detto Già l'ho detto Già l'ho detto Grazie.